chiudere chiudere bevi giuro grappa che vanno giù sempre alla bocca piena alla bocca piena assolita cazzo era cattivissima io lo picchierei era cattivissima ah questo è una cazzo di tortina figazzi figazzi è la tortina non lo voleva Simone io ci guido la bocca piena come vedere l'incidente dai vai io no sorridi in camera dai ciao mamma ciao mamma sto mangiando il buco un po' per grande ma come un monocchio e poi si incazza quando gli diciamo così chi è? ti sei sbordato e bianca così fermo lì vabbè 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 che schifo e come garza per il mio per i miei per i miei per i miei assi sti e sbatti spatti non spatti spatti Sì, sono passati a dire, ti devo guardare qui. Sì, sono passati a dire, ti devo guardare qui. Sì, sono passati a dire, ma di quanto? Sì, sì. Tortina. Sì, cosa fa? Vai a fare il giusto sconcio. Che schifo! Hai condito. I pantaloni. Hai condito. Lullo, wow. Guardate come si vede bene. Sì. Sì. Stiamo avendo colorato. No, facci quella. Sappiamo che lo vuoi Pigazzi. Sappiamo che lo vuoi. Non so che ti piace quello di l'olento. È un fumatore di patacchette. Adesso c'è Gabriele che comincia. Ma davvero, ma chi ha toccato l'olento? Si mi fa davvero. Faccio un fff. Sì. E' ritenta. Sei arrivato a metà. Dai, dai, lo che è che fa? Attacchela. Tagliela. Mi impugna la bocca. Sì. 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 Come quando dicono, mangiare dei cani è ancora più gustoso. Sì. Sì. Io ho toccato mangiare dei cani. È buono. Sì, già. Ma in realtà che l'avevo andato quando sono andato a giocare. Quando sono andato... No. Ma in realtà che la carne ce l'avevo andato quando sono andato a giocare a Viedanna. Quella che rimane a me. Ho anche io mangiato una forchetta. Cos'è che mangiare di unghia? Ma cosa c'è? Non c'è? Non c'è? Non c'è? Non c'è? Non c'è? C'è andato l'ho.